Amici di Raiuno, buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con le previsioni di traffico del fine settimana. Le vacanze estive per molti sono terminate, il weekend in arrivo sarà in gran parte contrassegnato da flussi veicolari vivaci, favoriti anche dal bel tempo, un fine settimana di rientri con le direttrice sud nord in direzione dei centri urbani e vediamo come si presenta intanto in questo momento la viabilità in A14, un'arteria molto importante per la riviera romagnola, come vedete ci sono code all'altezza del chilometro 56 all'altezza di Solarolo. Vediamo la diramazione di Roma sud dove in questo momento, attenzione, ci sono delle criticità, 9 chilometri di code in autosole tra Ferentino e Ceprano e tra Valmontone e il bivio dell'A24 in direzione sud verso Napoli. Dicevo che questo fine settimana è caratterizzato appunto da flussi veicolari vivaci soprattutto per i molti eventi, sagre, fiere, feste patronali, spettacoli, concerti, manifestazioni sportive e si corre il Gran Premio di Monza di automobilismo. Nella gara domenica, prima della gara alle 15, la banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Billi, eseguirà l'Inno d'Italia, cantato dal trio Il Volo, con il sorvolo della pattuglia acrobatica delle frecce tricolore. Molti eventi in programma e vi segnalo alla fiera di Montichiari, possibili rallentamenti, dell'elettronica, poi c'è la mostra del cinema di Venezia, Arsago Fast Cross, Trieste Maker Faire, la fiera di San Rocco a Modena, il Sarsana Festival della Mente e anche la Corsa della Lunigiana, la fiera del Vintage a Caserta, a Ostia abbiamo sia Ostia Comics e Ostia per l'Ambiente, Fermo Games, poi ci sarà il Palio di Asti, la giostra della Quintana a Foligno, a Livorno ci sarà il Caciucco Pride e poi il Pisa Summer Nights, a Viterbo la festività di Santa Rosa, a Rieti la fiera mondiale del Peperoncino e per quanto riguarda i concerti domani sera vi segnalo dalle 21 al Circo Massimo il concerto di Max Pezzali con Modifiche e la Viabilità, a Checo Zalone al Parco della Musica, a Pisa ci sarà Renga e Neck, il Volo a Milano, Ragneri e Morandi a Mantua, Gigi D'Alessio a Palermo e a Taormina. Per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A vi segnalo questa sera allo Stadio Olimpico con possibili rallentamenti per afflusso e deflusso dei tifosi Roma-Milan, domani Napoli-Lazio e domenica Inter-Fiorentina e Empoli-Juventus. Domenica la viabilità è agevolata dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in vigore dalle 7 alle 22 e domenica, essendo la prima domenica del mese, sarà possibile per tutti visitare gratuitamente diversi musei e parchi ecologici nelle nostre città. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione e da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità guidate con prudenza, fate buon viaggio a tutti voi in piacevole fine settimana. Arrivederci.